Ringrazio la professoressa Giraldo e tutti i professori dell'Istituto Ospedalieri di Catania, liceo classico, per questo invito. È stato veramente emozionante. Stamattina, quando sono uscito da casa, mia figlia di 10 anni mi ha detto, papà, non ti ascolteranno, anzi sicuramente si metteranno a parlare. Sono stati attentissimi, ritengo che queste lezioni siano davvero state utili ai ragazzi per trasmettergli non solo quello che facciamo nella nostra professione medica, ma con l'intervento anche della dottoressa Fail, li abbiamo anche ammoniti verso una prevenzione, una prevenzione delle malattie renali e delle malattie cardiovascolari in generale, per cui questi ragazzi sono un po' più consapevoli rispetto a due ore fa quando abbiamo iniziato e qualcuno, chi lo sa, magari ha sviluppato un desiderio di approfondire questi studi. Questo ci farebbe molto piacere e ci riempirebbe di orgoglio. Buona giornata a tutti. Grazie.